Buongiorno a tutti, noi siamo il Beethoven Junior. Io sono Clarissa Morri, lei è Carolina Bertini e lui è Christian Bacoli. Oggi eseguiremo la trascensione del tema del secondo movimento dell'ottava timfonia di Beethoven. Grazie e buon ascolto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.